Se verrà votata la fiducia da un Parlamento illegittimato, se questi signori faranno l'ennesimo colpe usurpando la nostra Costituzione e tentando di uccidere la nostra Repubblica, la nostra democrazia, noi ci riuniremo in maniera civile, prenderemo le dovute decisioni e risponderemo rispettando l'unico baluardo come punto di riempimento della nostra Costituzione e risponderemo tutti gli italiani insieme adeguatamente ma con decisione e fermezza a questi parassidi usurpatori. Ricordiamoci una cosa, atti violenti assolutamente non ci riguardano, la vendetta non alberga in noi, se vogliamo condannare chi sta assassinando la nostra Repubblica, chi sta uccidendo e violentando la nostra Costituzione perché pretendiamo legittimità, dobbiamo comportarci in maniera adeguata, da persone civili, perché siamo più civili di questi parassidi. Allora, preannunciamo sin da ora che a data da destinarsi, se domani verrà votata la fiducia, quindi verrà fatto l'ennesimo colpo di Stato, a data da destinarci che sabato ufficializzeremo, noi convoglieremo tutta, tutta l'Italia a Roma, tutta, tutta!